in diretta da sanremo sono con deniro ciao davide ciao perché ti chiami poi così si davide il mio nome segreto adesso l'ha appena svelato devo andare alla nagra per ricambiarlo perché deniro deniro era il nome che ho dato ad una band la prima bene qui diciamo era il frontman tra virgolette perché suonavo la chitarra e cantavo prima facevo solo il batterista e le prime composizioni diciamo i primi commenti insomma le prime composizioni che ho fatto casalinghe convergevano sul fatto che la musica che stavo scrivendo fosse legata molto al mondo del cinema come fosse musica da film così è in effetti sono sempre stato un grande appassionato di musica sia di musica per film che proprio di cinema e quindi ho trovato carino giocare un po con le parole e creare questo nero è ambigo è ambigo però in realtà ho pensato se mai un giorno dovessi andare all'estero a suonare cosa che poi è accaduta fortunatamente comunque ha un'assonanza anche per gli stranieri insomma per gli anglofoni già in grande insomma ma così si è una fantasia enorme smisurata non hai torto perché poi stati uniti d'america tu dici stati uniti mai più ma li hai già fatti parecchio mi risulta no sì no no ma non è un diciamo una un'esortazione a cancellare gli stati uniti ci mancherebbe stati uniti intesi come umanità perché il 1969 è stato l'anno che appunto poi tra l'altro il titolo del brano che sto portando sto presentando a sanremo è anche l'anno in cui c'è stato lo sbarco sulla luna e soprattutto è stato forse il momento in cui l'umanità tutta si è sentita legata nella realizzazione di un sogno comune quindi per un evento positivo dopo quel momento non ci sono stati più momenti del genere tant'è che noi siamo un po una sorta di popolo ebraico che aspetta il nuovo messia ovvero il nuovo diciamo momento in cui tutti saremo felici di fronte a un evento non so non so dovremmo conquistare un altro pianeta facciamo un po di tu come la vedi non lo so si diventa il piano regolatore insomma tra l'altro visto che la tua canzone per il momento è la più apprezzata da tutte le radio la più programmata prima ancora della prima serata di festival di sanremo questo che effetto ti fa mi fa molto piacere anche perché discografici di solito sempre detto che non mi avrebbero mai passato per radio quindi la risposta clamorosa questa no non non che ho davanti presenti esclusi come sempre cosa ti aspetti da questo festival mi aspetto innanzitutto allora innanzitutto io sono molto felice di partecipare a un festival in cui per la prima volta io presento un album tra l'altro cantato in italiano e questo era il motivo per cui probabilmente non avevo così attecchito prima o forse no però diciamo pensiamola così ecco e sono già felice di portare il mio mondo musicale che più o meno è sempre quello degli altri album su quel palco questa già per me è una grande vittoria sento che la commissione artistica è molto fiera delle nuove proposte noi di conto siamo felicissimi abbiamo saputo un paio di giorni fa che avremo l'opportunità di esibirci anche il sabato quindi il giorno della finale dei big e quindi non posso che ringraziare la commissione artistica che ha fatto diciamo che ha dimostrato non solo a parole quanto ci voglia bene no ed è una delle prime volte diciamo la verità che ci vogliono bene arrivano anche alla finale quindi che vengono valorizzati probabilmente come meritano sì sono arrivato nel momento giusto esatto prima di soffrire la candelina grazie a deniro e in bocca al lupo crepi grazie a voi ciao